Ciao a tutti ragazzi, sono White e oggi sono qui con Mr.TheSecretOfGames Bella ragazzi! Oppure conosciuto anche come BluefireTV e Pegaxus Buonasera! E... Che siano? Falox cos'è? Allora, questa mappa Underwater Warriors è una specie di skyblock L'obiettivo è appunto, vi mettete tutti quanti alle platform e ai bordi E si formeranno due team E l'obiettivo è uccidere gli altri Però la particolarità di questa mappa è che siamo tutti sott'acqua E dunque... Dunque bisogna appunto uccidere gli altri e sopravvivere uccidendo sott'acqua Io sono nel Blue Team E voi? Nel Green... Nel... Yellow Team Ready Ok, non so in che team sono, sì, penso in quello blu E... Parti! C'è qualcosa che non va Che cazzo succede? Provo a premere il bottone Boh Ok, fermi tutti Fermi tutti Bene ragazzi, ho trovato un grosso bottone con scritto... 15 secondi quando i rossi 15 secondi! 15 secondi! Io sono dei gialli! E' pronto Eeeh... Ci siamo! Vai, vai, white, io killerò solo te! Alla vittoria! 5 secondi! Vai, vai, 5, 3, 2, 1... Eccoci! Eccoci! Eccomi qua! Devo prendere le nove! Siamo sott'acqua! Oh, 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 prendiamo tutto! Tutto mio qua! No, basta bottiglie d'acqua! Bisogna selezionare le cose da prendere! Devo prendere tutto, vero? Adesso vi spiegherò come funziona! No, non è vero! Allora, questi mi servono! Sì, che testo! Oh, devo prendere l'armatura! Allora, andiamo in esplorazione! Ma dobbiamo combattere! Eh, sì! Ah! Beh, io ho un melone! Wow! Io ho un melone! Raga, ma io muoio perché non c'è acqua! Io laggo! Ok, ok! E riduciamo... Sto morendo, sto morendo, sto morendo! Sì, giusto, sto morendo! Ok! Devi spaccare... Facca lì l'albero, babbo! Adesso lo vado a ucciderlo! Oh, vada mia! Ci sono le torce per respirare sott'acqua! Ah, ecco! Oh my god! Uno... Uno già negato! Le Coco Crispy! Non riesco! Oddio! Oddio, mi manca l'aria, mi manca l'aria! Oddio, no! Oddio, no! Oddio, no! Oddio, no! È stato bello conoscervi! Chi è che è questo? Coco... Coco Crispy! Ciao, prega! Tu che cazzo ci fai qua? No, sto morendo affogando! Non negarmi la casa! Mi ha negato la casa! Che cazzo! Sto affogando? No, no! Ci stanno uccidendo! Ok, sono in spectate! No! Sono affogato! Sì! E vince! Ragazzi! Il primo! Il primo round l'ha vinto lui! Wow! Questo sì che è stato in senso! Rifacciamo! Ma chi è che si chiama Coco Crispy? Sei un grande! Sono io! No, il blu è mio! Vai via! Scordatelo! Io giallo! Io sempre giallo ragazzi! No! Non posso più mangiare! Non mi fa prendere il cibo! Wow! Non mi fa prendere! Cinque! Quattro! Tre! Due! Rivintità! Allora! Se ho capito bene! Un'armatura solo! Perché l'altra è una copia! Sì, fatti! Quali cose importanti sono queste! Boh! Poi l'instant damage! I meloni anche! Ah, giusto! I meloni! Se li piazzo posso mangiarli poi! Eh sì! Però devi distruggermi! Ok! Forza! Very good! È vero! Io ho i meloni! C'è un melone solo! Però mi costa la vita! Dai! Dettagli! Eh sì! Non ho ben capito come... Ah sì! Ok! Così si respira sottacco! All'avventura! Quella con le bottigliette! Ma si può tipo... Ha! Ho preso... Ah! Guardateli lì! Che lottano! Aia! Raga! Io sono un camper! Andiamo a rubare la casa di qualcun altro! Io sono un camper! Che c'è qua? Uno chest! Oh! Oh! Ragazzi! Uno chest! Oh! Oh! Non dirò! Ma quante cose ho trovato? Allora io sono contro i rossi allora! Sì! Perfetto! Sto fai morire! 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 Come fai a sapere contro chi sei? Oh! Ma ragazzi! Eh! Ci avete un'armatura! C'è! Con cosa che ci dobbiamo fare ossigeno? Eh! Con le torce! Eh! Ma io... Se non me lo provano fin subito! Dovete attaccare la attacca... Aia! Chi ha sto Pegasus? Pegasus! Aiuto! Pegasus! Mi uccide! Ma non ci sono tipo delle enderpearl? Oh! Ho ripreso l'acqua! Sì! Io ce l'ho natura da una! Ragazzi! A me non mi fa spiegare le torce! Andiamo... Andiamo... Andiamo ad attaccare Coco Crispy! No! No! Mi vuole male! Mi vuole male! Scusate! Ce l'ho sempre con Coco Crispy! Ma posso annegare? No! 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 Sto annegando! Sì! Solo io che ti osservo! Chi c'ha le mie spalle? Guarda che gli standa magico! Oh! No no no! Attenzione! Mi sta massacrando! Ma perché lui è l'unico che ha la spada? Noi siamo! Venga dove hai preso la spada? Dai non fare il giro! Vi lascio... Vabbè ragazzi! Un coso lui c'ha! Un coso! Un coso! Un coso! Un coso! Ma quanto tempo ci metti per spaccare un pezzo di legno? Troppo secondo me! Oh! No 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 no! No no no! Ne puoi affogare! Sì! Sì! Oh mio dio! Sì! Però... Abbiamo... Mangiamo! Non ho più cibo! Non ho più cibo! Ma... Ma come si fa... Come si fa a piazzare le torci? Cioè... A me non me le piazza! Ma... No! Sono chiuso fuori! Un enderpearl! Un enderpearl! Sono sempre epiche! Dove vedi? Un enderpearl! Nooo! Sto morendo! Sto morendo! No! Sono morto! Sì! Affoghiamolo! Affoghiamo Pegasoo! Mi piace affogare la gente! Io come faccio a stare spettatore? Oh mio dio! Ma che cazzo c'è qua? Oh! Raga come faccio a stare spettatore io? Sono sopravvissuto! Cisadevo un portale! Sì! Colpiamo! 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 All'attacco! Cisca del ferro! Ma che... Dove sono morto io c'era un enderpearl! Se vi piace! E' straforte sto cosa! Night vision! Epica! Beviamo! Basta! Uuuu! Nooo! Basta! Io mi... Io devo toccare sempre... Blue Fire! No! Stai lontano! Ma posso tipo prendermi la leva? Non ce l'avevate del cibo brutti rozzicche se non siete altri? Sì! La leva è mia! Tanto viverò io e poi morirete di fame! Viverai! 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 Allora questo è mio! Oh dove siete? Vengo a copparvi adesso! Ma come vieni a copparci? Io... Ah smelone! Perfetto! Melone! Mi hai fatto stordare! Qui ci sono dei resti! Basta! Io Blue Fire! Devo ammazzarlo una volta! Ah ah ah! Oh oh oh! Siete spacciati! E... Si prende il gioco di me ragazzi! Attenzione! Non... Basta! Basta! Io... Basta! C'è un libro! Sì! Mi manca solo il tavolo dell'incantamento! Tipo poi ho tutto! Ma scusi! Ma scusi! Non ho ne ancora capito! Perché a me non mi piacciono le torce sott'acqua! Dio! Questo è fantastico! Ritrovato! Cioè non mi fa respirare! Mi fa respirare! Non posso tipo indossare la maglia verde e confondere... Ehi! Colo! Chi è stato? No! Sì! Ho visto! Sì! 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 Blue Fire! Per me è per perdere! Cioè! Cioè! Mi avete messo sott'acqua! Anche io stiamo... Abbiamo ancora tempo per un'ultima! Bella ragazzi! L'ultima! Ok! Aspettate! Telefono! Perfetto! Meglio ora che mai! Barabam! 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 Tanto andiamo a picchiarlo E' quasi morto ragazzi Sì Guardate dove sono Dove sono Sì Va bella ragazzi Vabbè stoppiamo aspettiamo il tizio Ok rieccoci è spawnato un maiale No lasciatelo lì Lasciatelo lì No è mio Lasciatelo in pace Aspettate Aspettate Nessuno tocchi il maiale Ma se metto il maiale Tipo nella play store play Si teletrasporta con noi sott'acqua Portiamolo nei mini games Portiamo il maiale nei mini games Vi prego Si venga subito No dove sono Sei un detto spettatore come me Ah no aspetta ma di qua si può tornare Basta Maiale vieni con me Hai dato un nome al maiale Guarda che Oh raga guarda che io non posso Non posso fare niente Rega su spawn Rega su spawn Brava Sì Ah cibo Buon cibo Vabbè dai partiamo Rieccoci ragazzi Rieccoci Siamo pronti per l'ultimo round Ai posti di combattimento Io sono rosso ora Ti ha creato una specie di croce con una cesta Mi puoi mettere oppo perchè non posso più mangiare Non posso proprio mangiare Si può essere così nabbi in un mini games Cioè non lo so Si 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 costretta Mangia 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 Poi mamma mia ragazzi Pro style Blu file style Gente affamata Ok io vado sul giallo Oh ragazzi siete spacciati questo round Ovvio che no Eh Oddio Oddio Ok Fermi tutti Fermi tutti Cazzo Ok Hai posti di combattimento Io voglio killare Blu file Adesso vado nella sua postazione Ma io che faccio il palombaro adesso No io faccio il camper dai Super procante Allora prima di tutto rubare la leva Prima di tutto prendere l'armor Ma scusa raga non ho ancora capito perchè a me non riesco a respirare sott'acqua Cos'è che com'è che lo devo fare? Ma non è che non si può respirare sott'acqua Semplice Eh no lo so lo so ma tipo con le torce avete detto Si se metti la torcia attaccata al muro puoi respirare Ah ok Io sono molto più avanti Creo delle sacche Ah ma bisogna bere Ah no perché l'ho lanciata così Ragazzi ma perché dovete usare Cioè va bene le torce ma Lo sapete che ci sono un sacco di cose Che creano dei Dei vuoti momentani d'acqua Delle bolle ecco Si ma le torce fanno luce Quindi Allora andiamo a saltare subito qualcuno La vendetta ha inizio Si sto facendo benissimo Aia aia no 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 La vendetta ha inizio Via 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 mucca Via Le mucche fanno mu Ma una fa mu No 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 Sta diventando un budino al latte Sta diventando un budino al latte Cioè che stassi budini tipo Uno Uno è affogato No questo si è rubato tutto Io non ho più niente No 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 via via Fuga 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 Scappiamo Ritorno alla base Qua Sì sì Ok siamo dentro I mean Qua c'è il mio melone esatto Io mi sto blindando come un carro armato Guarda guarda Non avrai scampo Il tuo carro armato andrà in pezzi Sette meloni Wow Con una sola Con un solo cubo Io ho undici ne ho Però io ho solo due cuori Eh Vedi Io ne ho tutta la vita Tranne un cuore Che adesso Recupero Allora ho bisogno di Un pistone Sì Respiriamo Respiriamo La mia idea ha funzionato Perché sento delle ceste Che si aprono sopra di me Ah È Cocco Crispy Ciao Cocco Sì Ciao Bye mamma mia Pro style Prendiamo della redstone Ma tu sei in base Vai Io sono bloccato Guarda che sto riprendendo vita Ho fame Water Ma adesso posso tipo Ah Ah No No Ho creato una base piena Piena di pistoli Sì Tu sei maledetto No No Porca Sì Ok Ci siamo Ci siamo Ok Ok Adesso Ragioniamo Non è possibile Chi è l'ultimo Che viene qua A trovarmi Il sopravvissuto Non verrò mai Ho un cuore Allora vengo a copparti Aspetta Me ne esco da di qua Tanto quelli si saranno fatti Le spade Le armature Io qua invece Non ho niente Praticamente Sì Vedete Prova a entrare Ti chillo su Liberi Liberi Nuotate Nuotate Ma sono neanche Ok Andiamo a vedere Cosa stanno facendo Laggiù Per chi è che ha riempito Tutto di squid qua Nuotate 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 E uccidete Qualcuno qui sta abusando Dei cheat Non è vero Non è vero Non pensare Oh no no Sto affogando Stupida squid Che mi rovini Che squid Mi aiuterà Ma Stupida Stupida di una squid Ho anche finito le torci Non ci credo Grazie Mi hai salvato Ho inventato Un fantastico ibrido No 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 Sì mi sono spento Non devo morire Questa Non devo morire Questa è una cosa epica Comunque È più spettacolare Di un volo di mongolfiere Oh white Comunque devi mettermi hop Perché io non posso mangiare niente Ma non puoi mangiare Devi morire in questo minigames Oh mio dio Ho trovato una mappa Oh mio dio Maiali d'acqua Instant Oh Oh Ma è tutto acqua tanto Mangiamo ancora No Oddio no Il mio esperimento è fallito Io sono in una Cioè Questa situazione Merita uno screenshot Però vabbè Eccolo lì fuori Ma sei lì fuori Ma io ho un'idea epica Adesso vedrai Vieni Entra Entra Mamma mia Eh mi sposto No 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 Ho fatto un danno Ai 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 Vabbè Un altro maiale Ma basta Con questi maiali Ciao Pegasus Non sono maiali comuni Sono maiali che nuotano Maiali d'acqua Non ho più torci Sono morto Ah eccole Sono riapparsi Ok Non c'era anche Pegasus Ma facciamo uno sconto Ci sono Ci sono Ok Tuoi cazzo eri Sì eccolo Vieni qua White Ma sei Oh mio dio Ma tu sei morto white Madonna mia Cosa c'è qua Oddio Guardate cosa c'è qua Cosa c'è lì Qui c'è c'è la chest Super segreta Che tu non potresti guardare Ok Ha vinto C'è l'internet Mentre tu guarda Dai prepara una base Facciamo uno sconto Uno scontro finale Stile Skydose Minecraft E poi si finisce Wow Metti tutti up Muoviti Pubblicizzate il mio canale Mi raccomando Tutti i canali sono in descrizione Sto continuando a saltare Cos'è tanto leggo guaio More minigames MCwarrius.com Ok Ragazzi Il mio IP Lo trovate Dei minigames Li trovate tutti in descrizione E nei titoli anche Supportateci con un like Ma abbiamo finito Sì ma Dove stai andando Quello lì sale Tipo fa una torre di babele Ma volevi fare uno scontro finale Sì ma che cavolo Dove stai andando Cioè stai C'è lì Sei un po' di lava in mezzo Ti ho raggiunto Che so che tutto anch'io Dai fai hop che in quattro Costruiamo più veloci che da soli Ma sì Perché tipo Facciamo una cosa tipo Di sumo no Ok Basta così Basta così Ok Ragazzi Vuole piccare una ragazza Quindi lui Lui è Ma io non sono umano Sono una mucca È vero è vero Una mucca che vuole stuprare Una ragazza Non l'hai visto In un mondo del genere Non sappiamo che siamo in crisi Ma non in questo modo No Attenzione Dammi un qualcosa di epico in mano Tipo non lo so Una carota di nuovo Coco Crispy Se è il tuo nome No qual è Coco Crispy 82 Coco Crispy 23 23 23 23 23 23 Sì sì Scusate Allora ragazzi Ok aspettate E qui si decreta Il vero vincitore Ok ok Che arma volete Che arma volete Allora Mi voglio No no niente Voglio l'inchiostro Soltanto ci varie Soltanto ci varie Gli voglio l'inchiostro Ok ma io Eh ma io non posso mangiare Non mi sento Ho Io ho io una mela Dova No niente Bene Prova Eh infatti Prova a darmelo Oppure un incudine Vediamo se mi fa mangiare Allora Allora Collox Ok mi fa mangiare Ok mi fa mangiare Erano solo le le torti Che mi facevano mangiare L'uomo No ragazzi No ragazzi No ragazzi Eh stai Collex Dove sei sempre stato condannato A HB No Sì ti ho ucciso io Ci siamo ragazzi Dai scontro finale No dai ragazzi Non fate i cretini Bella ragazzi Benvenuti nello scontro finale Siamo qui su questa platform Ok ci siete Aspettate Aspettate Io 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 Allora Iniziamo a saltellare Come si fanno Come fanno tutti i veri youtubers Mentre questi saltano I super giocbotti No Ragazzi Non lo fai da tutto Bye bye No